Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella per i poveri è un segno carismatico, è un segno importante. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è una scuola bella. Il terzo motivo è una zona povera, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella. Il terzo motivo è un'altra scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella, fare una scuola bella.